Oggi giornata mondiale contro la violenza sulle donne, anche il comune di Finale Ligure ha aderito vestendosi di arancione. Sì, è un'iniziativa in cui devo ringraziare lo Zonta Club di Finale, è un'iniziativa che condivido. Si tratta di un crimine particolarmente odioso, peraltro mi sono occupato di alcuni casi nella mia professione di avvocato e ho sempre considerato una cosa particolarmente abietta, nel senso che poi essere violenti nei confronti di persone che sono più deboli fisicamente di noi non è sempre una cosa particolarmente sbagliata e soprattutto è insopportabile che al giorno d'oggi queste cose continuino ad accadere considerando quello che è il livello di istruzione o il livello culturale che dovremmo avere o che riteniamo di aver raggiunto in questi anni. A Finale Ligure comunque si fanno iniziative come spettacoli di sensibilizzazione promossi dallo Zonta Club come l'iniziativa di colorare il comune di Arancione? Sì, sono iniziative importanti, io penso come penso molte persone che sia un problema non soltanto di natura criminale è un problema anche di natura e soprattutto un problema di natura culturale, cioè si tratta di far comprendere ad alcune categorie di maschi che le donne non possono essere considerate da strego di oggetti o di beni che appartengono per il semplice motivo che si è iniziato concordamente un rapporto sentimentale perché poi spesso la violenza si scatena all'interno delle mule domestiche, in rapporti di parentela o i rapporti che erano rapporti d'affetto, coniugali o di finanziamento e poi generalmente il maschio non sopporta la fine di questo rapporto perché ritiene ovviamente in modo di tutto illegittimo ed arbitrario di essere, di aver acquisito quasi un diritto di proprietà sul bene che precedentemente, sul bene nessuna persona che precedentemente amava e dalla quale era probabilmente inizialmente almeno corrisposto quindi si tratta indubbiamente di un problema prima culturale che giuridico, come penso tutta la stragrande maggioranza dei delitti e dei problemi giuridici sono problemi prima culturali che dovrebbero essere affrontati dal punto di vista culturale per far crescere in qualche modo la società, i consociati e poter in questo modo anche avere la possibilità di evitare che in futuro certe cose si verifichino.